Allora Moreno dimmi, la discesa in campo come è andata? Bene, molto bene, molto bene, 5 milioni di firme raggiunti, tutti Ipici, tutti Ipici, perché sì, l'Ipici è molto seguita, quindi... Ma tu come la riconosci la firma degli Ipici? Cioè, a parte il fatto che non ho idea di dove le hai raccolte, cioè, non ho fiducia degli Ipici. E' presente Leonardo da Vinci? No. Ecco, tutta un'altra cosa. Galoppo Trotto, Leonardo da Vinci. Tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Comunque, gli Ipici si firmano alla rovescia. Ah, è segno distintivo? Sì. Ah, ecco perché non sono Ipico, perché non fermo... Tutti gli Ipici si firmano alla rovescia, perché Ipica parla a rovescia di tutto. Ah, io l'ho riconosciuto. Tu come ti firmi? Montemorello. Alla dritta. Alla dritta. Sì, perché io sono avanti. Io sono avanti. Comunque, allora, il programma è piaciuto? Il programma è piaciuto tantissimo. Chiarissimo. Molto chiaro. Per me rimanisco, mancano i punti, però c'erano le righe. C'erano le virgole anche, quindi poi punti chiarissimi. Più chiari di cos'uno. Ma dagli altri partiti, che risposta è? Cosa sono i partiti? Ah no, scusami. No, vabbè, comunque niente. L'importante è che tu hai avuto il supporto, perché io non l'ho letto. Non lo sai che ho letto. Io non ho letto la tua lista. Non l'ho letto. Come no? Era la prima. La prima in alto. Sai cosa diceva Gaber, eh? La prima in alto, la prima in basso, la prima in basso, la prima a metà, è la prima. È la supercarlo. È la prima. È la supercarlo. Sì, sì, sì. Quindi noi siamo tranquilli. Quindi noi ti aspettiamo quando ci sarà l'appertura delle... Quando ci sarà lo sposo. Vedete la mia faccia, eh? La mia faccia voi fate... Beh, sì. Sì, non le faccio. Siamo già... Sì, siamo già... Beh, sì. Questa vuol dire una perva solo per appunto darvi seguito, noi siamo nell'attualità. Sì, sì. Perché dobbiamo... C'è proprio l'ultima cosa come campagna elettorale tua, personal, che vorremmo molti da rilanciare dopo le ultime novità, le ultime situazioni? Sì. Se voi date il voto a me, elimino anche le zanzare perché mangiano tutti i marroni, perché bisogna dire che hanno tutti i marroni, le zanzare. Sì. D'ora in avanti faremo estate senza zanzare. Poi niente zanzare? Niente zanzare. 5.000 euro a tutti. A tutti? A tutti? A tutti? 60.000 euro a tutti. No, a tutti. No, no, fermati. Ti vale un po' proprio 5.000 euro tutte le volte che ho noi, tra 5.000 euro. Mi schiaffi. No, no. Se vinco io, se vinco io, se vinco io, se vinco io, certo, certo. Faccio una legge ad interim. Non so se si può dire questa parola interim. Non so, hai capito? Interim. Sì. Non so cosa vuol dire, spero. Va bene. Allora, una legge ad interim per cui dice Moreno, lui, perdone, telepodono, 5.000. Non ci credo neanche... Ciao. Ciao. L'hai detto tu, eh? Fammi governare, vedrai. Mi trovo io qui sono. Mi trovo io qui sono.